Alla presenza del sindaco Enoch Soranzo e di tutta l'amministrazione comunale della città di Selvazzano Dentro è stato inaugurato il Parco Diritti dei Bambini. Presente la dottoressa Laura Lofiego, referente del tavolo regionale Welfare per i minori e dei bambini e degli insegnanti, in rappresentanza di tutte le scuole per l'infanzia del territorio. L'opera si trova in Via dei Mille a Tencarola, vicino al Centro per le Famiglie, presenti numerosi bambini, tutti animati da un gran sorriso. Abbiamo deciso di intitolare un parco ai diritti dei bambini, accogliendo la proposta del tavolo regionale Un Welfare per i minori, afferma il sindaco della città di Selvazzano Dentro, Enoch Soranzo, ed abbiamo scelto il parco di Via dei Mille in cui ha sede il Centro per le Famiglie. Una realtà che da otto anni si propone come punto di riferimento per i genitori con figli da zero a otto anni, luogo di incontro e condivisione dell'esperienza genitoriale e da finalità formative, ricreative, di formazione e orientamento sulle opportunità sociali, educative e di intrattenimento del territorio. L'obiettivo di questo importante progetto regionale vuole proprio essere un riconoscimento tangibile dello sforzo di tutti coloro, genitori, educatori, volontari, animatori, ma anche insegnanti, pediatri, psicologi, assistenti sociali, che quotidianamente si impegnano in modo concreto per dare sostanza al riconoscimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti nei nostri territori. Soddisfazione è stata espressa anche da Giovanna Rossi, assessore alle politiche delle famiglie e servizi educativi della città di Selvazzano, che ha detto investire sui bambini significa investire sul nostro futuro, sperando che sia migliore.